Musica 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 Grazie Se vi interessa noi facciamo un cantamaggio da anni, da trent'anni facciamo il cantamaggio si va di casa in casa, si fanno dei canti di augurio per la buona stagione per i campi, eccetera e poi si fanno passeggiate chiaramente suonando nelle aie, eccetera 7 maggio partenza alle 15 dalla chiesa di Vedeghetto sapete dov'è Vedeghetto è appennino bolognese domenica 7 maggio cantamaggio a Vedeghetto e andremo a Montasico 5 km a piedi 7 maggio Vem in gomma Vem in gomma Vem in gomma Vem in gomma, prima la modenese Vem in gomma Sì che andiamo alla ferra a comprare la stagera la stagera la stagera se la notta eccomi gomma che rischia sotto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti